Cari amici, il Vangelo di domenica prossima 22 di luglio ci fa riflettere ancora una volta su come, per così dire, ci vede bene Dio. Dio vede bene da lontano, vede bene da vicino e vede bene dentro, nel segreto, nel fuori. Dio vede così bene perché vede con il cuore. In altre parole, Dio è amore e vede, per così dire, con gli occhi dell'amore. Ecco perché quando Dio, che è un Padre così dolce, tenero e pieno di amore, vede l'umanità afflitta da mille mali fisici e soprattutto spirituali, prova compassione e misericordia. La bella notizia, cari amici, è che l'amore di Dio che gli permette di vedere così bene e di avere compassione dell'umanità intera, risulta essere anche la forza di trasformazione più grande dell'universo. Per cui se è vero che Dio ti ama così come sei, è anche vero che ti ama troppo per lasciarti così come sei. Con il potere più grande del suo amore, infatti, trasforma la tua povertà in ricchezza, la tua tristezza in gioia, la tua miseria in gloria. Infatti, cari amici, per i meriti di Gesù suo figlio, il buon pastore, Dio ti trasforma in figlio suo e coerede in Cristo della vita eterna. È tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre. Grazie. 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 Grazie.